Beh, primo perché lo Yusbe è un partner del Social Media Marketing Day, due perché è l'evento più divertente e più simpatico di Social Media Marketing in Italia, tre perché alla sera poi dopo andiamo a mangiare tutti insieme e ci divertiamo. Twitter è fresco, è giovane come siete voi ed è un modo immediato, quindi 140 caratteri per poter dire attraverso un titolo una percezione di quello che stai vedendo, un'emozione che stai percependo, puoi fare una foto, puoi fare un piccolo video, puoi citare delle persone. Instagram è uno degli strumenti più potenti che ci sono in questo momento, ha un handicap, nel senso che tu fai una fotografia, si fa una foto e non si possono mettere dei link e quindi da un certo punto di vista diventa una esplosione, una cultura del proprio ego, nel senso che tutti cercano di mettere la foto e di avere tante persone che fanno un click. Mi sembra che Einstein diceva che se non sei capace di spiegare una cosa a tuo nonno, vuol dire che non la sai fare, giusto? Direi che mi occupo di comunicare attraverso degli strumenti nuovi, in questo caso i social network, i valori che ci sono all'interno dell'azienda. Me l'hanno chiesto, gli ho detto che mi piacerebbe, vediamo.